Te lo saresti mai aspettato? Tempi supplementari, assist di Baie e gol di Adopo che tra l'altro proprio lì a San Siro aveva vinto la Coppa Italia con la primavera del Toro Esattamente, esattamente, quindi è uno stato che gli porta bene No, oggettivamente no Peraltro il Toro di Monaco D'Ale deve ancora andare a San Siro quindi non vorrei che Adopo ci regali un'altra magia No, oggettivamente non me lo aspettavo credo che neanche il miglior trader pronosticatore su questa terra potessi immaginarselo Contentissimo, bravissimo Il punto cruciale delle parole di Juric è quando lui dice quando lavori bene l'occasione prima o poi arriva sono due giocatori che non hanno mai detto parole fuori dalle righe sono sempre allenati, sono sempre applicati a differenza magari di chi non ha mal di pancia, fa casino altro, loro sono sempre stati al loro posto in maniera corretta sicuramente hanno avuto l'occasione e si sono fatti trovare super pronto